8 marzo 2018 Milano Rino Gattuso non nasconde la delusione per la sonora sconfitta rimediata a San Siro contro l'Arsenal. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficilissima dice il tecnico dei rossoneri. L'Arsenal veniva da un momento difficile ma enorme qualità noi abbiamo sbagliato troppo. Non siamo mai stati squadra compatta e hanno meritato. Potevamo fare qualcosa di più ma non abbiamo giocato da squadra, ogni volta che attaccavano potevano farci male. Giocare a questo livello nuovo per questi ragazzi ma rimangono troppi errori, ora guardiamo avanti senza perdere fiducia, stata una giornata no e l'Arsenal ha meritato. ci servir per il nostro percorso. Il ritorno, Gattuso non perde la speranza per ribaltarla all'Emirates Sardura, ma lui non uno che molla Cos. Ora la testa va al Genoa ferma poi inizieremo a prepararla. Nel calcio mai dire mai quindi andremo a Londra per provarci, non in gita. Siamo il Milan e abbiamo una maglia da rispettare. Avremmo potuto segnare, non finita ma difficile. Cercheremo di giocarcela meglio. De Cal, questa è una sconfitta che aiuta a crescere. Seri è un passo tro, il nostro torneo allenante commenta Gattuso ma in Europa ci sono grandi giocatori con velocità e qualità. Oggi ad esempio i loro terzini ci hanno sempre tagliato in due. Poi se guardiamo ai soldi, una squadra qualunque in Inghilterra guadagna il triplo dai diritti tv e questo fa la differenza. Milan Arsenal, il film è... Grazie a tutti. Grazie a tutti.